Assolutamente no, io vengo ogni anno, l'anno scorso purtroppo non sono potuta venire, però sono venuta nei giorni addietro e lei mi attende sempre e sta sempre qui con noi. La musica e la danza sono sempre linguaggi universali, quindi ci accompagnano sempre in tutto, nella preghiera. La voglia di ballare al ritmo della vita, la devozione per mamma schiavona e grandi occhi verdi pieni di futuro, questo video registrato il 2 febbraio del 2022 a Montevergine, nel giorno della Candelora, racconta molto di Alessandra Mazza. 35 anni, estetista e parrucchiera, colopi della musica, solare e sensibile la definiscono gli amici, tanti quelli che piangono la 35enne capace di farsi volere bene da tutti, nonostante una patologia che a volte le alterava l'umore. Anche ieri, fino a poco prima della tragedia, coccola e sorrisi per l'estate del capoluogo vestito a festa per San Valentino, dopo aver postato su Instagram un video con Margherita, la sinella che spesso le faceva compagnia sui social. Agli amici più vicini, Alessandra però, aveva rivelato la sua preoccupazione per la depressione del padre Costantino, 61enne idraulico, molto noto e stimato in città. L'umore era stato dimesso dall'ospedale Moscati pochi giorni prima, a seguito di un intervento di appendicite. Sembrava insomma un giorno buono per la parrucchiera dei grandi occhi verdi, ma nel primo pomeriggio qualcosa è accaduto tra le quattro mura dell'abitazione dei boschi dei preti. Mentre Maria era in casa, Costantino ha impugnato la pistola, un'arma di piccolo calibro, legalmente detenuta. Ha raggiunto Alessandra che sostava nel cortile e l'ha uccisa con un colpo. Poi ha rivolto la pistola contro se stesso e si è sparato. Ad allertare i soccorsi è stata la moglie del 61enne sotto shock davanti alla scena dei due corpi privi di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile e due ambulanze del 118. I tecnici della scientifica hanno eseguito rilievi di rito per definire la dinamica dell'accaduto, mentre il medico legale Carmen Sementa, per conto della procura, ha effettuato una prima ispezione cadaverica. Appena diffusasi la drammatica notizia nella piccola contrada rurale alla periferia di Avellino, sono giunte decine di conoscenti e familiari delle vittime. Lacrime urla di disperazione per chi non riusciva ancora a credere all'immane tragedia. Forse nessuno saprà mai cosa è scattato ieri nella testa di Costantino Mazza, se il suo gesto legato al rapporto a volte è difficile con la figlia quando lei finiva in preda alle crisi. Poi il carro funebre ha trasportato le due salme presso il reparto di tanatologia dell'ospedale a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'ultimo doloroso viaggio di Alessandra e Costantino lungo i tornanti della piccola contrada rurale accompagnato dalle strazianti grida di dolore di Maria abbracciata dai propri cari rispetto per chi ha il cuore distrutto e il mondo come la vita crollato gli addosso in pochi istanti.